Il volontariato a Formigine è fatto di tante persone che si impegnano ogni giorno sul territorio per il bene della comunità e in stretta collaborazione con l'amministrazione. Sono forze fondamentali per organizzazione eventi, sicurezza, welfare, sanità. Due esempi particolarmente significativi sono l'AVAP e l'AVIS. L'AVAP, Corpo Volontari di Pronto Soccorso, che ha sede in via Sant'Onofrio 3 a Formigine, si occupa di emergenza, trasporti, servizi interospedalieri, protezione civile, in costante collaborazione con il comune, gli ospedali e i servizi sanitari pubblici. I nostri volontari sono preparati con dei corsi specifici per poter intervenire sia sul primo soccorso e sia anche in caso di intervento a livello proprio, mentre uno trasporta, mentre si sono autorizzati e preparati ad intervenire. Noi tutti i mezzi sono dotati delle tecnologie e delle apparecchiature all'avanguardia. Abbiamo dei defibrillatori su tutti i mezzi e abbiamo il personale che ha preparato questo. Abbiamo sui mezzi invece di pronto soccorso, quindi a disposizione del 118, abbiamo delle apparecchiature molto più sofisticate, che vale a dire che sono i defibrillatori, sì, però abbiamo anche per il tracciato dell'elettrocardiogramma, la rilevazione e la registrazione dei parametri e tutto qua. E in più in aprile abbiamo alla popolazione un corso per le prevenzioni delle morti bianche e delle morti in culla sostanzialmente. E in più a ottobre, verso ottobre, avremo il corso popolazione per il primo soccorso. E poi c'è l'Avis, una vera istituzione per formigine e per i comuni limitrofi da più di 50 anni. Una realtà che esercita una funzione fondamentale per la salute dei cittadini, grazie al suo impegno per la raccolta sangue e la sensibilizzazione sulla donazione. Contiamo più di 1800 donatori e raccogliamo quasi 4000 sacche tra sangue, plasma, piastrine e multicomponent all'anno. È una realtà molto bella, è una realtà familiare, è una realtà che tutti gli anni regala qualcosa. Per tanti donatori che purtroppo perdiamo, per limiti d'età, per problemi sanitari, ne acquistiamo altri. Quindi non siamo mai in calo di donatori, fortunatamente. Vorrei dire la stessa cosa delle donazioni, purtroppo un piccolo calo c'è, un piccolo calo a livello provinciale, regionale e purtroppo anche nazionale e ci stiamo lavorando. Plasma è una parola fondamentale perché si tende a dividere in categorie le donazioni, quando le donazioni sono tutte importanti. È importante la donazione di sangue alla quale siamo abituati ad assistere, ma è importantissima la donazione di plasma, la donazione di piastrine e la donazione di multicomponent. Abbiamo la fortuna di avere un punto di raccolta plasma molto vicino a noi, che è l'Avis di Sassuolo, quindi inventiamo i nostri donatori, anche i più abituati a fare donazioni di sangue, ad alternarle, perché sono veramente, veramente importanti. La relazione costante tra comune e associazioni si basa su un reciproco scambio, sul supporto alle iniziative delle associazioni, all'attività delle associazioni attraverso un apposito ufficio, l'ufficio associazionismo del comune, al quale si possono rivolgere le associazioni per le varie questioni legate al registro delle associazioni, al supporto alle iniziative e all'attività dei volontari. Inoltre, quello che facciamo come comune è cercare di coordinare il più possibile la rete sul territorio e quindi i vari servizi del comune, ma anche le varie realtà non associative del territorio, penso alle parrocchie, penso alle caritas e a tutto il terzo settore in generale.